musica bellissimo qua, tipo, quella verde! è chiuso è chiuso? sono dei suoi di Harry Potter è chiuso? vabbè io sto zitto che è meglio parla con la tizia verde 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 ovvio ora prima quella azzurra sono abiti era una minaccia, una volta cambiato d'abito dovrei andartene azzurra con calma sping oh va che belli oh ma che belli la piantate di fare rgb voi tre spammate spammate non cambia neanche, sono sempre rosso e verde spammate questo ora che paralizzate eh sì eh sì oh 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 nudo dai scusa è molto più figa questo uniforme dell'altra ma alla fine ha la stessa giacchettina di prima sì la giacchettina è simile non uguale si puliscono da soli una palla una palla una palla se Pippo non dovrebbe essere lì e abbiamo un keyblade che in realtà non abbiamo cosa wow ma va guarda che Pippo non c'è perché quando fai la cosa lì e ti trasformi per questioni del fatto che sei un tantino OP tolgono la gente però in teoria potrebbero essere ma va ma va no no per la fusione con Pippo si si chiama coraggio però non si chiama fusione con Pippo Fusione valore si chiama valore vabbè da ma maestro Yen Si cosa? cosa ci da? cosa ci da? cos'è? oh eccola qua cosa la mettiamo come standard eccola qua no c'era scritto la roba Pippo ah adesso dobbiamo vedere sì di cani di energia è un comando molto potente lo sappiamo la barretta turbo max 3 per attivare il turbo abilità no forse valore si no no non è qua abilità abilità non c'entra grillario non c'è più mi sa ne abbiamo persi un po' eh storia no no personaggi la faccia di Yen Si è inquietantissimo vabbè dai non fa niente mettete in pausa il video guardate cosa c'è scritto e poi diteci esatto abilità vediamo cosa abbiamo di nuovo ehm balzo aereo balzo aereo che è comodo e poi tu vuoi iperguardia suppongo no va bene balzo aereo dai iperguardia appena ne abbiamo lo usiamo valore tutte attive si ma scorrile così almeno non c'è più la scritta nuovo che mi da un fastidio ok ok ah Pippo c'ha energia eh Paperino c'ha energia ottima facciamo così ce le ha tutte siamo libero libero? no no libero così sicuro ah ok Pippo libero no bilanciato figa sono spam ma deve spammare più d'anni fa meglio è lui ma poi dopo bisogna sistemare le metano oggetti cambiamo il keyblade ehm sei più forte questo qua da defender aumenta la difesa in posizione questo qua invece aumenta la difesa in posizione va bene vogliamo quello metti devi cambiare il secondo no non si può ah non possiamo perchè ne abbiamo solo due si che cagata accessori ce l'abbiamo? no va bene possiamo andare avanti eh sostituisce una pozione con una gran pozione e mettila così tante per fare la in auto eh vabbè mettila e mettila in auto mettila l'ultima in fondo l'ultima in fondo così la usiamo di meno mettila in auto si può mettila in auto si che si può eh basta il resto lascia così vabbè magari metti no e si sennò non possiamo sceglierla come non da oggetti non possiamo scegliere come fare l'euro? scegli quale fare per ora va bene poi quando avremo energia thunder robe varie le togliamo ora che non c'è bisogno stiamo giocando non è male non c'è manzasse così andiamo si può anche dirlo tanto c'è da adesso eccola qua e noi avevamo potenziato tantissimo nel primo gioco L'ho fatta io Alla fine E adesso invece ci danno quella a base Che fighera è questo Divertenti Stakes Pensa chi ha deciso di giocare il 2 Senza giocare l'1 Non capisci un cazzo No 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 Io ho giocato l'1 al momento dell'uscita E poi ho giocato anche il 2 appena è uscito Me l'ha regalato per Natale l'1 Lo ricordo No ma pensa chi ha cominciato a giocare dal 2 Cioè si arriva a questo punto E dice Che cosa sto giocando Anche io mi inquieterei Guarda quanto è triste Ma scusa Guarda gli occhi di Yesid Guarda le pupille Non ci sono E' come quando in Gmod ingrandisci talmente Tanto la faccia di una persona Però le pupille non si ingrandiscono E quindi rimangono minuscole Cosa? Poi che chiudo? No no è che non sono pulito Chiudo io Come no? And the goofy Perché lui è più importante And the goofy ha detto And the goofy Veramente? No Ha detto and the goofy And the goofy Il pippo E' bellissimo come corre piccolo No 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 Non va a tenere su Per un attimo pensavo si sta sfondando Siamo nobody Ha 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 Nobody 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 knows where they're back to Ré 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 che poi scusa se tutti i mondi sono tornati al loro stato originale ammesso che malefica vabbè, lei a parte ma queste tre qui non sono del mondo di Cenerentola o qualcosa di genere no, sono del mondo della bella addormentata vabbè, sono del mondo della bella addormentata qua non c'è il mondo della bella addormentata lo so, ma c'è come mondo esiste allora, secondo la logica vuol dire che in questo gioco esiste come mondo e non faremo spoiler vabbè, ma esiste il mondo della bella addormentata lo vediamo, c'è in Birth by Sleep c'è non so quindi, queste tre qui che cazzo ci fanno qua? ma anche Yen Seed ha il suo mondo no, Yen Seed, sì, il suo mondo è la torre vabbè, anche questi qua dovrebbero essere da qualche parte però vabbè Dale sono Dale e Chip, sì Chip and Dale l'inglese sì ah, beh, so Dale fa ridere se ci pensi Chip and Jump è abbastanza stupido ma mi piace di più Chip and Jump solo una? eh già il mondo più bello del gioco invece no 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 Siamo sotto livellati è livello 8 noi siamo tipo il 7 sì, lo so però ti ho detto ma qua tanto c'è un front of the yard non devi sconfiggere gli altri poi skipparli, fa fuori il boss e lo belli se ce la fai c'è questo tasto che ho pito il triangle questo gioco sì guarda cos'è non ho fatto a sentirlo quante espressioni ha fatto in una volta? 3 wow wow record guarda quanti FPS perde ogni tanto no è quando fai caricamenti dei filmati ma non è che li perde fa 48 vabbè sono quei piccoli skip che ogni tanto si muovono eh siamo un mondo che abbiamo già visitato ma è completamente diverso esatto c'è anche un altro nome no sì no fortezza oscura è una fortezza oscura ma non si chiama così in questo gioco si chiama fortezza oscura vedrai come si chiama ah yard sono fighting si vedrai che viene scritto dude sono fighting the holobastion what the fuck dude the fighting dude ah conviene usare il turbo in ogni battaglia non ti arro per i boss così si livella dude lo bento e quello lì di pippo ci serve perchè dà gran salto eeeh eeeh cip e chop prendilo si si uno va ben tosta equipalo si va bene equipalo evviva anche se ce ne manca ancora uno ah sei riuscito ad attivare tutto ah ottimo pensavo ne avessimo cin quattro ci servono questi si sono anche a corto di soldi questi ci servono qual è? andiamo? tutte e due non c'erano soldi? eh prendi quello di pippo no pippo perchè paperino gli hai messo cura come principale perciò ci serve più come healer invece pippo mazzuolo quindi se gli dai più attacco il meglio comunque non puoi venderlo quello che c'ha pippo adesso vediamo tutto quando ci servono i soldi però ora non ci servono ok oggetti 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 non ne vedo prosegui perchè salire sulle scale è troppo difficile ehi ultima weapon ultima weapon vuoi farla? ma anche no dall'altra parte c'è ah lui vende le pozioni non ci serve d'altra parte eccolo qui zio paperone zio paperone? chi? è lo zio di paperino l'ho chiamato zio per un motivo un magnate della finanza di commozione gente che piange l'ho commozione ah ok dice ma no io mi ricordo che la commozione l'ho ha l'ho snow è grains ma è mi ricordo la